Buonasera da Giuseppe Recca dalla redazione. Gran parte di questo appuntamento flash dedicato alle elezioni amministrative con la presentazione delle liste nei comuni del territorio a Burgio. Si sfideranno il prossimo 28 maggio il sindaco uscente Franco Mattinella, sostenuto dalla lista Burgio nel cuore, Vincenzo Galifi di Burgio in movimento. Mattinella ha designato assessori Antonella, Leo Veirisario, Bartolo Maniscalco, Galifi invece Domenico Arrigo e Katia Maniscalco. A Santo Stefano Quisquine è stata presentata una sola candidatura a sindaco, quella dell'uscente Francesco Cacciatore che si dovrà misurare unicamente con il rischio del mancato raggiungimento del quorum. A Menfi dopo l'uscita di scena di Marilena Mauceri per ereditare la sua poltrona di sindaco si affronteranno Ludovico Viviani della lista Verso Menfi che ha designato assessori Baldo Messina, Pinuccia Occhi Pinti, Antonella Tarantino e Ignazio Amato. E Vito Clemente, sostenuto dalla lista 92-013, che ha designato assessori Franco Gagliano, dirigente della regione siciliana, Santo La Placa Avvocato, Maria Pia Pisano, dipendente bancaria. A Sambuca di Sicilia il sindaco Sciente Leo Ciaccio si candida al Consiglio Comunale ed è nella lista Sambuca prima di tutto che sostiene il candidato a sindaco Giuseppe Cacioppo. Per lui la sfida è di Sario Arbisi di Siamo Sambuca. Cacioppo ha designato assessori Giovanna Casà, Francesco Gennusa, Felice Guzzardo, Maria Mulè. Con Arbisi ci saranno Ezio Bilello, Antonio Salvato, Gaspari Abruzzo. Si ricandida il sindaco in carica Salvatore Dazzo a Lucca Sicula. A sfidarlo sarà Giuseppe Puccio, che la fascia tricolore l'ha già indossata alcuni anni fa. A Calamoneci per l'uscente Pino Spinelli la sfida sarà con Vincenzo Scorsone. Cambiamo argomento, anche il deputato Margherita Laroccaruvo ha voluto fare dichiarazioni in merito agli impegni assunti ieri dalla regione siciliana per attivare all'ospedale di Sciacca il reparto Stroke Unit nel ricordare che il progetto aveva subito una frenata anche a causa dell'emergenza Covid. L'esponente di Forza Italia si augura adesso che sia la volta buona. Ho segnalato ancora una volta anche tante altre criticità. Bisogna fare uno sforzo in più, ha detto, per assumere personale medico e sanitario. Tire non sospiro di sollievo. 16 imprenditori agrigentini che da anni vantavano crediti consistenti per lavori effettuati durante la gestione commissariale del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento imprese sull'orlo del fallimento che si erano anche indebitate per assicurare un servizio essenziale ma che poi non erano state pagate. La loro vertenza si è conclusa, è stata seguita dalla CNA ed ha coinvolto anche in prima linea naturalmente. il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa che ha mostrato, come afferma oggi la CNA, tenacia, sensibilità e disponibilità. È tutto per questa edizione pomeridiana serale. Grazie, a dopo. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS